pronto 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 chi è? è pronto ma che è Tommaso? è bene, ma sono bianco, mi sono chiapparillo, mi sono chiapparillo ha capito che si chiapparillo? no perché mi aspettava se mi sapevo che facessimo i birrmachini ma non è per me, tu non vuoi offendere? no signor non è che lo voglio offendere sì sì, per me è geniale, è la vita mia, per me è Gesù, è il proseguo della maschera di Puccinella la gloriosa maschera della commedia dell'arte, ma tu certe cose le capisci proprio perché tu vieni, non sa c'è, a rovieni, ma c'è capito che si è amiche di Piermachini ma già dalla gente che l'ha da volta, io non so tu da dove vieni e venga in testa il tecno, venga, e poi sei il suo maestro che cosa? tu fai il grande attore, ma l'ha visto qui che l'ha imparata a recitare va bene, ho capito, sì sì, è il solito strunzato che dici tu, ma stammi a sentire come strunzato? io volevo avere un rapporto proprio diretto con te, capito? capisce innanzitutto mi fa piacere perché che tu in questo momento, come dire, hai una tua autonomia l'autonomia non è amica ma non giacci se tu capisci questa parola pazza non capisci e oggi è pure studiata tu? e studiata? eh oggi è studiata, perché io non posso studiata a tu? con mamma ma poi va, dice la fassaria eh, papà, papà, mamma non è morire pure a scuola io disse ma come dice fin alla prima alimentare ah, già pari prima alimentare poi è affaticata guarda è una cosa era affaticata che era a mangiare eh, vabbè oggi ho fatto un paccheggiatore eh oggi ho imparato a mettere in macchina a pettine capisci? capisci? eh, eh fuori studi ma chiamavano sempre a me eh capo, capo oggi ho fatto studiata sì la prossima volta voglio parlare con Piermachi e parlare con Piermachi va bene eh se vuoi parlare con Piermachi parlo questo eh, vabbè vabbè parla a fare con me si signora ci capisci fate buon fate buon ciao 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 facci più questo sei proprio scema niente ciao